Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, siamo ancora su Final Fantasy 4, dopo aver sconfitto il Goblin oscuro e recuperato il Cristallo della Terra, possiamo ritornare al Castello di Troia. Allora, innanzitutto vorrei andare a trovare Edward, visto che è stato grazie a lui che sono riuscito a sconfiggere il dannato Elfo Oscuro, quindi andiamo a vedere se Edward... ecco qua. Grazie a tutti. Hai ottenuto la sublimazione, canto. A proposito delle sublimazioni, io dovrei avere la sublimazione Contraattacco. Però per il momento voglio aspettare, perché non lo so, in futuro magari... cioè, in futuro voglio costruire il team finale, che poi sarà appunto il mio team finale, lo voglio costruire in base ai personaggi che ho intenzione di utilizzare, quindi per il momento lasciamo le cose così. Cain ci ha sgamato. Cioè, ha visto che praticamente abbiamo preso il cristallo, e quindi adesso vediamo un po' che cosa succede. Oh, vediamo adesso... eccolo qui. Cain. 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 ecco e siamo giunti qui nella torre stavo dicendo per l'appunto che qui i mostri comunque sia sono abbastanza potenti quindi non so se mi conviene fermarmi un attimo e fare un po' di level up e poi continuare a salire la torre oppure vediamo cotta focum vediamo se tu la puoi mettere l'armatura nobile non può metterla nessuno a quanto pare quindi va bene per il momento teniamo così perdonate qua sicuramente avrete visto un taglio ma mi era arrivata una notifica qui andiamo da questo lato qua non c'è niente allora utilizziamo le magie di Cecil bene così ora a me dà il 99% sapete perché? perché c'è quel pezzettino là sotto che non è stato esplorato sicuro ci scommetto guarda ora vi faccio vedere che appena arrivo là e tocco quel pezzettino ve l'avevo detto 5 lire di Zeus vabbè andiamo avanti il problema è che Tella viaggia ad eteri praticamente è una sorta di di suv a etere praticamente esploriamo ogni anfratto perché se no qui sicuramente avrete visto un taglio perché guardate un po' troviamo la spada Focum ma è un'imboscata e qua dobbiamo stare attenti perché c'è un mostro che è abbastanza potente buono il fattore confusione però giustamente lui si carica quindi bufe rara dato che comunque è debole all'elemento ghiaccio eh facciamo parecchi danni con Seed utilizziamo la miglioria ecco bruciatura attenzione ecco olè sconfitto bruciatura è l'unico problema di questo boss mini boss chiamiamola così però adesso abbiamo finalmente la lama Focum la spada Focum il problema è che questa spada è di elemento fuoco e la maggior parte dei nemici presenti all'interno di questa torre è resistente o addirittura assorbe il fuoco quindi per il momento non possiamo utilizzarla continuiamo la nostra esplorazione ovviamente ora c'è il problema principale che sono senza sono senza coda di finice e questo effettivamente potrebbe essere un grosso problema per me infatti non sono quasi titubante sul fatto di dover tornare indietro e prendere comunque delle code di finice oh sì ho questo questo pensiero in testa allora innanzitutto mi sa che qua ho preso un abbaglio cioè che sono deboli al fuoco quindi posso utilizzare assolutamente la spada Focum anzi mi aiuterà tantissimo ho esplorato l'ira degli dei eh sì la lama la lama Focum mi sta dando una grandissima mano la cosa che non mi sta dando invece una mano è Tella che avendo pochissimi MP praticamente me li consumo tutti subito e non riesco a fare nulla allora qui dobbiamo esplorare per bene tutta la mappa buono con la spada Focum i combattimenti stanno durando veramente che poi non capisco perché attaccano tutti Tella cioè è pazzesco è una sorta di calamita cioè lo attaccano sempre e comunque cioè non è che attaccano Cecil che è bello equipaggiato buono non gli levano niente no Tella così giusto per rompergli le palle Zanna blu eh ho l'ultima coda di finire che come protagonista ovviamente vede il solito Tella perché mi sembra giusto ora sono senza MP anche con Cecil mi sa che avrei dovuto fare forse una piccola scorta da qualche parte anzi assolutamente avrei dovuto fare una piccola scorta da qualche parte giustamente indovinate cosa è successo hanno attaccato Tella ovviamente e c'è crepato perché c'è crepato ora qua tutte ste porte dove mi portano mi portano dove non voglio artigli infernali mi piace e il problema è che qua sto con allora io qua ho un grosso problema di fondo ma veramente veramente grosso cioè che ho finito tutte le mie risorse possibili e immaginabili quindi devo assolutamente o uscire per fare scorta perché sennò scudo Focum ecco lo scudo della luce adesso non so se effettivamente posso darla a qualcun altro vabbè tu non ne hai bisogno Tella vabbè ecco tu scudo di ferro almeno hai qualcosa almeno hai qualcosina allora sì da qua effettivamente ho già esplorato tutto eh l'altra porta che cos'è allora vediamo cos'è la porta di qua perché queste porte dovrebbero soltanto con Cecil qui a girovagare ora sto martello è martello terreno tanta roba però sono rimasto soltanto con Cecil a girovagare quindi sono costretto vediamo se funziona di utilizzare dov'è il salvagente che non ne ho più dove sono i salvagenti antidoto panacea mini pane scusa ma ma io salvagente ne avevo uno solo ma non lo devo utilizzare la magia teleporto quindi questo non viene considerato neanche dungeon oh Gesù Cristo allora ragazzi qua sicuramente avrete visto un taglio enorme perché non avevo modo per l'appunto di curarmi avevo finito praticamente tutti gli oggetti avevo finito tutto non avevo nulla a disposizione madonna 400 guile per restare la notte e quindi che cosa ho fatto sono uscito dalla torre dove mi trovavo fino a 10 secondi fa per voi e adesso sono ritornato nella cittadina di Troia perché devo assolutamente fare scorta di tutti gli oggetti che mi servono ovvero coda di finisce devo prendere almeno una ventina assolutamente le gran pozioni alla fine no io tenterei di vedere se ci sono eteri purtroppo non ce ne sono ecco e questa già è una cosa abbastanza brutta quindi facciamo scorta di gran pozioni a questo punto prendiamone non lo so vediamo un 5 6.000 guile vediamo a quanto arrivano ecco magari ecco 45 49 in totale 50 mega pozioni gran pozioni visto che non ci sono eteri non ci sono altre cose direi va bene coda di finisce a questo punto posso abbondare ne posso prendere altre 10 va bene così andiamo invece cosa che mi preme forse più di tutti nella sezione armature e armi perché mi serve anche un equipaggiamento diverso magari per proteggere i miei compari però ovviamente qua non c'è nulla che mi possa permettere di avere un'ulteriore protezione di quella che ho adesso per cui va bene così amen salviamo in un altro blocco magari ecco qui e adesso se salgo sulla nave dovrei ritornare automaticamente sulla torre esatto quindi per il momento il mio unico modo per viaggiare o esplorare la mappa sarebbe il ciocobo nero ma a me per ora non mi interessa cotta del saggio non mi interessa non mi interessa non mi interessa Non ho parole veramente Non ho parole Cioè tra tutti quelli che ci sono In parti Colpiscono sempre E solo Tella Sempre Beh qui effettivamente si può salvare Vabbè salviamo a sto punto Ok Però il problema ora è questo Il fatto che lì Vedete c'è quell'angoletto Che probabilmente Mi preclude il 100% Benvenuti alla torre di Zot Noi siamo le sorelle Magas Dov'è che le abbiamo già viste? Le tre Magus Ecco loro potrebbero darmi Un problema Effettivamente Ecco io già vado di altruismo Su Cacchio Questo reflex Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Grazie a tutti. Allora, concentriamoci su Doga, su quella più grande. Il fatto che mi diano Reflex è un problema. Ok, la prima è andata. Sì, diciamo che il problema fondamentale del Reflex è il fatto di non potermi curare tramite le magie. E quindi ora, vedete, a posto di curare me, ha curato. Fortunatamente non l'avevo colpita, quindi non ho perso nulla di chiave. Allora, se lei fa controattacco, forse è meglio attaccare l'altra. Tu utilizza la coda di Fenice, giustamente, visto che Tella ha deciso di prendersi una vacanza. È molto schiva la sorellina. No, ti prego, non ha Tella. Perché ho l'impressione che colpirà a Nutella? No, almeno. Madonna, ma che... Cioè, poi del 75% comunque l'evasione, eh. Cioè, non è che dici a tutta sta evasione. E non la becca lo stesso. Facciamo un po' di energia Young. Perché non me l'ha fatta attaccare? Ah, buono, io ho messo Poison. Bravo, sì, Young è bello, full. E la seconda sorella, cioè, è andata via. Abbastanza semplice comunque come combattimento questo. A differenza, comunque, di altri. Che cosa? Ma io non me lo ricordavo, sto... Che potesse fare risveglio. Oh, Gesù Cristo. Questo potrebbe essere un problema. Niente, allora devo fare fuori per prima la sorella al centro. Non me lo ricordavo, sta cosa. Niente, si vede che comunque... Final Fantasy 4 l'ho giocato parecchi anni fa. Ma veramente parecchi anni fa. Cioè, non lo dico solo per dirlo, ma proprio... Si vede, si vede. Tante, tante cose non le ricordo. Guarda, ora colpiscono Sid, sicuro. No. Eh, vabbè, buonanotte. Arrivederci. Il reflex successivo, giustamente. Che recupero cosa, recupero. Che recupero cosa, recupero. No, buco raro. Sì, sì. Sì, sì. Tutto perfetto, sì. Perfetto, perfetto. Attacco delta. Vai, lanciati un buffe rara da sola, visto che non hai neanche reflex. Bravissimo. Esattamente questo dovevi fare. Che poi, a dire la verità, io ricordavo che fosse dog, cioè quella alta che avesse in realtà la magia di sveglio. Ecco perché ho attaccato lei per prima. Non so se è una cosa che è stata cambiata. A dire la verità, non so se è una cosa che è stata cambiata. Ma io ricordavo fosse lei che avesse appunto la magia di sveglio. E risvegliasse le altre sorelle. Invece no, a quanto pare era quella al centro. Eh, fuoca, va disintegrata. Ok, quindi è rimasta soltanto la piccolina. Che tra l'altro è quella che si autolancia le magie addosso. Quindi alla fine ci sta. Bello. Veleno a te stessa. No. L'ha mancata. Va bene. Per il momento posso lasciare perdere. Perché tanto Tella non ha possibilità di fare magie. Gli eteri non ce li ho. Olè. E le tre sorelle. Sconfitte due volte tra l'altro. Per un errore mio di calcolo. Ce le siamo tolti dai mezzi ai piedi. Oh, finalmente Esna. Bene, GG. A questo punto torniamo indietro. Non mi interessa se ho il veleno o tutto quello che è. Non me ne frega nulla. Perché tanto adesso qui utilizziamo una bella tenda. Che mi cura completamente. Mi leva tutti gli status. Mi leva tutto. Tra l'altro risalviamo. E probabilmente vi faccio la magagna che faccio finire qui l'episodio. Sì, salvo qui. Faccio finire qui l'episodio. Così poi nella prossima puntata andiamo a vedere che cosa succede. E continuiamo la nostra avventura. Quindi, grazie ancora per essere stati con me. E alla prossima. Così, grazie ancora per essere stati con me.